Ciao, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, sono Silvia. Oggi ho preparato per te una sequenza di Pilates dedicata in particolare al lavoro su addominali e glutei. Il lavoro sarà sempre molto più completo sul corpo, molto più globale che solamente queste due parti muscolari, però in particolare gli esercizi sono strutturati proprio per rinforzare il nostro centro nella parte anteriore, gli addominali e un pochino anche i glutei. Prima di partire vorrei solo ricordarti che nella descrizione del video trovi il link a Nuvo la Pilates, la mia scuola online di Pilates dove trovi non solo video di Pilates tradizionale, ma anche di fusioni con lo yoga e con la danza, dei tutorial sui singoli esercizi. Puoi provare l'abbonamento mensile per una settimana per visionare i contenuti in modo gratuito e senza nessun impegno e poi decidere di proseguire con gli allenamenti. Buon lavoro, intanto al risrotto del tuo tappetino e siamo pronti per ripartire. Cominciamo in quadrupedia e ci sistemiamo con le mani in linea con le spalle, le ginocchia in linea con le anche, cerchiamo bene quell'allungo della cervicale, allineiamo bene la testa, il collo, le spalle e sentiamo quel supporto addominale che cerca l'allungo nella nostra zona lombare. Andiamo a mobilizzare la nostra colonna cominciando con un mucagatto, quindi inspirando andiamo in modo consapevole ad estendere la nostra colonna ed espirando curva la colonna, porta lo sguardo verso il bacino. Inspira, vai in quell'estensione consapevole e controllata, fuori l'aria attiva gli addominali, spingi delicatamente sul tappetino, curva, porta lo sguardo verso il bacino. Inspira, va in estensione, fuori l'aria curva, mobilizza bene anche il tratto cervicale. Nel momento in cui fai la goba del gatto, attenzione a non caricare le tue spalle, quindi cerca di mantenere lo spazio tra le spalle e le orecchie, fuori l'aria. Ne facciamo ancora due. Inspira, vai in estensione, fuori l'aria curva, ancora una volta, inspira, apri bene il petto, vai a portare quel codino verso il soffitto, curva la tua colonna e dalla curva torna al neutro della colonna stessa. Quindi proviamo a usare questo mucagatto come punto di partenza per una circonduzione verticale del nostro busto, del nostro bacino, quindi puoi giocare con il tuo peso che va a destra, a sinistra, appoggi prima su una mano e sul ginocchio corrispondente, poi scivoli dall'altra parte, quindi veramente esplora un pochino la mobilità delle spalle, del bacino, della colonna e poi a un certo punto cambia direzione, quindi andiamo a fare questa esplorazione del movimento anche dalla parte opposta, sempre attivando gli addominali quando vai nella gobba del gatto, puoi tenere la testa un pochino più stabile qui, facciamone ancora un giro completo e quando sei pronto torna al neutro della tua colonna, torna sempre a spingere con quelle mani sul tappetino, punta i tuoi piedi, manteniamo quell'allungo della zona lombare, attivando in modo isometrico gli addominali, quindi hai già gli addominali attivati contro la forza di gravità, inspira qui ed espira, solleva leggermente le ginocchia, inspira, riappoggia e ancora fuori l'aria e spingi via il pavimento, inspira, ritorna, avanti fuori l'aria 3, inspira, riappoggia, avanti ancora fuori l'aria 4, inspira, ritorna, avanti ancora sali bene 5, inspira delicatamente riappoggia, fuori l'aria 6, facciamo gli ultimi due, ancora avanti sali 7, inspira, torna e ancora uno fuori l'aria 8 e ritorna. Ora da qui andiamo ad allungare una gamba e l'altra e cerchiamo di mantenere il nostro plank, quindi cominci ad allungare la gamba destra, stringi il gluteo, attiva un filo di retroversione, allunga la tua gamba sinistra, piega il ginocchio destro, riappoggialo e piega il ginocchio sinistro, riappoggialo. Gamba destra di nuovo, stendi la gamba destra, allunga la gamba sinistra, tieni un secondo, glutei, addominali bene attivi, ripiega il ginocchio destro, ripiega il ginocchio sinistro, ancora una volta con la gamba destra che parte, stendi la destra, stendi la sinistra, fermalo qui un secondo e poi riappoggia il ginocchio destro direttamente sotto la tua anca, partiamo questa volta con la gamba sinistra per tre volte, sinistra che allunga, destra allunga, tienilo, riappoggia il tuo ginocchio destro delicatamente, riappoggia il sinistro e poi il destro, ancora sempre da sinistra, allunga, allunga, tienilo, glutei bene fortissimi, il ginocchio sinistro si piega, il ginocchio destro si piega e facciamo l'ultimo ancora, allunga, allunga e qui fermati un secondo, fai quel gesto di piegare il ginocchio ma non riappoggiarlo e riallunga, fuori l'aria tira e ritorna, quindi non è esattamente un tirare il ginocchio verso il petto ma fare finta se vuoi di riappoggiarlo sotto la tua anca, fuori l'aria e ritorna, fuori l'aria, facciamo gli ultimi quattro se possibile, glutei bene attivi quando torni con le gambe stese, ancora gli ultimi tre e riallunga, ancora gli ultimi due e riallunga, ancora uno, riallunga, questa volta piega il ginocchio che vuoi, riappoggialo, piega l'altro ginocchio e ci andiamo ad allungare un secondo indietro verso i talloni, quindi andiamo ad allungare un secondo a sciogliere i polsi, puoi fare i pugni con le tue mani e ruotare per qualche secondo i polsi in una e nell'altra direzione e poi srotolare verso l'alto e da qui ci andiamo ad allare sul fianco sinistro, cominciamo a lavorare la nostra gamba destra lateralmente, appoggiamoci sul gomito, le gambe partono piegate, il braccio parte lungo il tuo fianco, lungo la tua coscia, nel momento in cui sollevi il bacino allunga anche la tua gamba destra, la sollevi, quindi inspira, prepara ed espira, fuori l'aria allunga, possiamo allungare anche il braccio verso il soffitto, fuori l'aria 2 e ritorna, ancora fuori l'aria 3 e scendi, ancora sali 4 e ritorna giù, avanti, fuori l'aria 5, quindi senti tutti e due i glutei che stanno lavorando, ancora sali 6 e ritorna, gli ultimi due, avanti sali 7 e ritorna, fuori l'aria 8 e ritorna, ora spingiti in ginocchio e continuiamo a lavorare con la gamba destra allungata, allungala verso l'esterno, sistema bene i tuoi fianchi, porta le braccia in allungo verso, anzi partiamo con le braccia allungate verso l'esterno e andiamo a fare un po' de bras verso la nostra sinistra, quindi fuori l'aria allunga e ritorna centrale, fuori l'aria 2, quindi senti bene il tuo obbligo destro che lavora, fuori l'aria 3, costruiamo questa S con le nostre braccia per scendere, fuori l'aria 4 e ritorna e avanti, fuori l'aria 5 e ritorna ancora fuori l'aria 6, possiamo scendere ogni volta di più, avanti ancora scendi 7 e ritorna, respira 8, facciamo gli ultimi due qui, ancora scendi 9 e ritorna, ancora 1, 10, molto bene, ritorna, mano destra dietro alla nuca, appoggia la tua mano sinistra, quindi scarica bene la tua spalla, solleva la tua gamba destra per 8 volte, 1 e ritorna, 2 e ritorna, sali 3 e scendi, avanti 4, puoi ruotare la tua testa verso il pavimento, si senti fastidi sulla zona cervicale, avanti ancora 3 e ritorna, gli ultimi 2 e ritorna, ancora 1, ritorna e riposa, sciogli la posizione, andiamo a ripetere tutto sull'altro lato, quindi ci ritraiamo in modo da appoggiare l'avambraccio destro, le gambe partono allineate tra di loro, il braccio sinistro allungato, inspira, prepara ed espira, allunga il braccio, stendi la tua gamba, sollevala e ritorna giù delicatamente, fuori l'aria, sali 2, inspira, ritorna, fuori l'aria, allunga 3 e ritorna giù, avanti ancora, stendi bene 4 e ritorna, avanti ancora, allunga 5, se possibile ne facciamo altri 3 qui, fuori l'aria 6, tira bene la punta del piede che stai sollevando, ancora, avanti gli ultimi 2 e ritorna e ne facciamo ancora 1, ritorna e da qui spingiti in modo da poterti mettere prima in ginocchio e poi allungare bene la tua gamba sinistra, trova l'equilibrio in questa posizione, piuttosto porta il piede leggermente più avanti, allinea bene le tue anche, le braccia si aprono, in questa seconda posizione inspira e andiamo a flettere verso destra, fuori l'aria e ritorna al centro, usa questo portebra delle tue braccia, fuori l'aria e ritorna, ancora scendi 3, prova a scendere ogni volta un millimetro in più, ancora fuori l'aria 4 e ritorna al centro, avanti 5 e ritorna, fuori l'aria 6, respira, avanti ancora 7, quindi rendi fluido il movimento delle tue braccia, ancora scendi 8, facciamo gli ultimi 2 qui e ancora allunga bene il braccio oltre la tua testa, ritorna, ne facciamo ancora 1, allunga, ritorna, molto bene, appoggia la tua mano destra, la mano sinistra può rimanere dietro la tua testa, inspira qui ed espira, solleva la gamba sinistra per 1 e scendi 2 e ritorna, sali 3, senti bene l'equilibrio, fuori l'aria 4, glutei bene attivati, sali 5 e ritorna, avanti 6, ancora 7, avanti, sali 8, avanti, ne facciamo ancora 1, ritorniamo su e ci riposiamo, molto bene, da qui ci straiamo pancia in su, sentiti libero di mettere uno spessore sotto la testa se necessario per supportare la tua cervicale. La prima posizione in cui lavoriamo è una posizione in cui le gambe si accavallano, ma se dovessi sentire fastidi sulle tue anche i tuoi femori, sentiti libero di mantenere il tavolino, quindi comincia a sollevare, ad attivare gli addominali, una e l'altra gamba in tavolino, incrocia la caviglia destra, il ginocchio destro sopra il ginocchio sinistro, quindi le tue gambe sono proprio accavallate una sull'altra, senti il lavoro dell'interno coscia, quindi degli adduttori che spingono uno sull'altro. Inspira, prepara ed espira, solleva il busto, fuori l'aria, inspira, torna, fuori l'aria, 2 e scendi, solo flessione del torace, 3 e mantieni le posizioni delle gambe, ancora fuori l'aria, 4, facciamo gli ultimi due qui, fuori l'aria, 5, ancora 1, sali, 6. Ora, mentre il busto sale, prova a tirare bene le ginocchia verso il petto come se volessi sollevare l'osso sacro, fuori l'aria, 1 e ritorna, fuori l'aria, 2 e ritorna, ancora sali, 3, inspira, ritorna, fuori l'aria, 4 e scendi, avanti, sali, 5 e ritorna, fuori l'aria, 6, facciamo gli ultimi due, avanti, sali, 7 e scendi e ancora 1, 8, ritorna. Quando sei qui, porta la caviglia destra sul ginocchio sinistro, quindi andiamo a sistemare il 4 con le tue gambe, se possibile, ricordati che puoi sempre appoggiare il piede sinistro se questa posizione è troppo faticosa, la lunga e qui andiamo a ruotare il busto verso la gamba destra che è piegata, fuori l'aria, inspira, scendi, centrale, 2 e ritorna, avanti, fuori l'aria, 3, torna, giù, ancora sali, 4 e scendi, andiamo fino a 10, 5 e ritorna, fuori l'aria, 6, avanti ancora sali, 7 e ritorna, avanti 8, avanti gli ultimi due, sali 9 e ritorna, avanti 10, molto bene, ritorna. Ora appoggia bene il piede sinistro, porta la pianta del piede destro sul tuo ginocchio o meglio sulla parte sopra il ginocchio, sulla parte della coscia, togli eventuali spessori da sotto la testa, porta le braccia lungo i tuoi fianchi, accorcia leggermente la distanza tra il piede e il gluteo e cominciamo a salire con il bacino in questa posizione, fuori l'aria, su e ritorna, mantenile anche bene allineate, 2 e scendi, fuori l'aria, 3, gluteo sinistro fortissimo, ancora sali, 4 e ritorna, fuori l'aria, 5, premi con la gamba destra sulla gamba sinistra, 6 e ritorna, fuori l'aria, 7, il lavoro è di tutte e due le gambe, ancora 8 e ritorna, fuori l'aria, 9, molto bene, vai su ancora l'ultima volta, 10, ritorna, sciogli la posizione delle tue gambe e facciamo tutta questa sequenza dalla parte opposta. Comincia se vuoi ad accavalare le tue gambe e poi a tirarle verso il tavolino, quindi cerca di sentire la compressione dei tuoi aduttori, mani dietro la nuca, solo busto, fuori l'aria, sali, quindi questa volta è la tua gamba sinistra, destra e sopra la destra, 2 e ritorna, fuori l'aria, 3 e scendi ancora, sali 4, facciamo gli ultimi due qui, sali 5 e ritorna, 6 e ora cominciamo a muovere anche le gambe verso il busto, fuori l'aria, c'è un piccolo dondolamento del tuo bacino, fuori l'aria, vuoi sollevare l'osso sacro, fuori l'aria, 3, quindi c'è un lavoro più profondo sulla parte bassa dei tuoi addominali, ancora, fuori l'aria, 5, ultimi 3 in questa variante, 6 e ritorna, fuori l'aria, 7, ancora 1, fuori l'aria, 8, ritorna. Ora, caviglia sinistra su ginocchio destro, ricordati che puoi sempre, se preferisci appoggiare il tuo piede destro o invece rimanere in questo 4 con le gambe bene attive, inspira qui, ruota verso sinistra col tuo busto, 1, inspira e ritorna, qui andiamo fino a 10, 2 e scendi centrale, fuori l'aria, 3, chiudi bene le coste verso il bacino, sali 4 e ritorna, usa sempre il respiro, 5, torna giù, ancora fuori l'aria, 6, avanti, sali 7 e scendi fuori l'aria, 8 e facciamo gli ultimi 2, ancora sali 9, inspira, torna, fuori l'aria, 10, ritorna e qui appoggia il tuo piede destro, la pianta del piede sinistro si appoggia, quindi senti che anche la gamba sinistra si sta attivando premendo sulla tua coscia destra, appoggia bene le tue braccia, accorcia leggermente la posizione del tuo piede rispetto al gluteo, inspira ed espira, solleva il bacino e ritorna giù diretto, fuori l'aria, 2 e scendi, ancora sali 3 e ritorna, fuori l'aria, 4 e scendi, ancora sali 5, ritorna, tutte e due le gambe che lavorano, 6 e torna giù, avanti, sali 7 e ritorna, fuori l'aria, 8, avanti gli ultimi due, sali con le anche bene allineate, ancora 1, sali 10, molto bene, ritorna e qui tira un secondo le gambe al petto, incrocia pure le tue ginocchia, le tue caviglie e ruota delicatamente il bacino, quando sei pronto riporta i piedi in appoggio, sistema un secondo bene il tuo bacino, gli addominali attivati, solleva le gambe a tavolino, facciamo una piccola sequenza di teaser preparatorio, puoi allungare le braccia oltre la tua testa, inspira, porta le braccia su, fletti il torace, puoi aggrapparti sulle tue cosce per sollevare il tuo busto, mantieni il bacino leggermente in retroversione, le gambe a tavolino, allunga le braccia in avanti, inspira ed espirando una vertebra dopo l'altra torna giù, le gambe rimangono a tavolino, le braccia vanno oltre la testa, il movimento nelle braccia è quello del roll up, quindi inspira, espira, vieni su, uori l'aria, tieni il tavolino, scarica bene le spalle, apri il petto, inspira, fermati qui un secondo ed espira, articola la tua colonna, vertebra dopo vertebra e allunga le tue braccia oltre la testa e di nuovo inspira, porta le braccia in avanti, movimento allo sterno, sollevati, le gambe si spostano, spostare leggermente in avanti per favorire la tua salita del busto, inspira, tienilo ed articola bene la tua colonna, la prossima volta che ci fermiamo su, che siamo su, ci fermiamo, inspira, espira, solleva il busto, fermati qui, inspira ed espira, apri le braccia per cinque volte, uno e ritorna, fuori l'aria, due e ritorna, ancora apri tre e ritorna, quattro e ritorna, ancora uno, cinque, ritorna, prendi un bel inspiro qui, apri il petto ed espira, srotola di nuovo, una vertebra dopo l'altra e mentre riporti giù i piedi riporta giù anche le tue braccia. Per allungare i flessori delle anche cominciamo a fare prima una piccola consapevolezza proprio di questo allungo utilizzando lo srotolamento della colonna, il nostro bacino che sale, il mezzo punte, cervicale lunga, senza spessore sotto la testa, inspira ed espira, retroversione, massaggia la tua colonna per salire e ci fermiamo su. Quindi gli estensori delle anche, ossia i tuoi glutei, ti permettono di attivarsi, di allungare i flessori. Visualizza l'allungo del tratto anteriore delle tue anche, quindi del collegamento tra le anche e i tuoi femori, quindi spingi nella pasta posteriore per creare allungo in quella anteriore. Fermati qui giusto un paio di respiri e poi prendi un bel inspiro profondo ed espirando una vertebra dopo l'altra torna giù fino al tuo neutro, ne facciamo ancora due così. Inspira, prepara ed espira, retroversione, attiva bene i glutei e quando sei su fermati, un paio di respiri profondi qui con la sensazione veramente di allungare i flessori delle anche. cercando di mantenere quella peso sulle scapole, inspira, tienilo ed espira, articola la colonna, massaggia per ritornare verso il basso, ne facciamo ancora uno, inspira qui ed espira, retroversione, attiva bene i glutei, spostati verso l'alto, fermalo qui ancora un paio di respiri, cerca di mantenere il parallelo delle tue gambe, non ruotarle troppo verso l'esterno e poi prendi un bel inspiro di nuovo ed espira, articola la tua colonna, una vertebra dopo l'altra, ritorna giù e qui andiamo a strecciare i glutei, quindi se vuoi da questo punto in poi metti spessore sotto la testa per migliorare la posizione della tua cervicale, caviglia destra su ginocchio sinistro e tira le gambe al petto, possibilmente intreccia le mani dietro la coscia sinistra, fuori l'aria tira. Proviamo a rimanere in questa posizione, quindi tira costantemente se possibile e respira. Ogni volta che espiri, prova a vedere se ti è possibile tirare quella gamba un pochino di più verso il petto, aumentando la sensazione di allungo sul gluteo, finché ovviamente è un allungo benefico, senti veramente il beneficio di questo tiro. E poi piano piano sciogli la posizione, rieppoggia un secondo i tuoi piedi, caviglia sinistra su ginocchio destro, tira le gambe verso il petto, se possibile incrocia le mani dietro la coscia destra e anche qui tira. E crea quella progressione in cui mantieni questo tiro delicato delle tue braccia, sempre più profondo, sempre più verso il petto, sempre più in allungo di quel gluteo sinistro. Cerevicale lunga, spalle lontane dalle orecchie, il lavoro è nelle braccia, non nelle spalle, non nei trapezzi, non nel collo. Molto bene, e anche da qui riposa un secondo, quindi riappoggia i tuoi piedi. Andiamo a portare i piedi un pochino più lontani sul tappetino, apriamo le braccia, i palmi possono essere girati verso l'alto o verso il basso, andiamo a ruotare il bacino, lasciando che le nostre gambe seguano la forza di gravità e la rotazione del bacino e vadano un pochino a scivolare verso destra e verso sinistra. E respira liberamente, cerca di mantenere le spalle appoggiate sul tappetino mentre lasci che il bacino e le gambe invece ruotino, mobilizzino. Ancora una sequenza destra sinistra, completa la sequenza da dove sei partito e ritorna al centro, richiama i piedi un pochino più vicini tra di loro, aggrappati su una gamba o gira su un fianco se preferisci, sali. Qui fermati un secondo seduto, allunga le gambe in avanti, leggermente separate, puoi tenere le gambe completamente allungate o invece piegare leggermente le tue ginocchia, l'importante è che la tua schiena sia dritta quando parti, mani vicine ai tuoi fianchi, piedi a martello, senti l'attivazione di tutta la catena posteriore, inspira ed espira, scivola in avanti, cammina con le mani verso i tuoi piedi senza caricare le tue spalle, ginocchia lunghe che premono sul tappetino, puoi agganciare una parte delle tue gambe se preferisci e tirare un pochino di più il busto verso le gambe stesse, inspira ed espira da qui, scarica bene le tue spalle, ritorna su, apri il petto, riporta lo sguardo, porti i gomiti un filo indietro a sentire quell'attivazione delle tua muscolatura dorsale, ancora un paio di volte, curva in avanti, scendi, puoi rimanere qui o agganciare una parte dei tuoi piedi, delle cosce, delle ginocchia, delle caviglie, dove arrivi e poi scarica bene le tue spalle per ritornare su, allungati, ne facciamo ancora uno, inspira, prepara ed espira le mani, scivola in avanti, verso i piedi e oltre e tira sempre di più quel busto verso le tue gambe, cerca di scaricare le spalle e poi per l'ultima volta articola la tua colonna, torna su, la testa sempre per ultima e quando sei qui prenditi un attimo per ruotare le spalle indietro, sciogliere la posizione dei piedi e ritrovare una posizione dritta, comoda, in cui veramente tu possa sentire l'allungo, il supporto della tua musculatura addominale, l'apertura delle tue spalle. Ottimo lavoro, grazie mille per essere stato con me durante questa sequenza, spero ti sia piaciuta, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia un like se il video ti è piaciuto e per supportare il canale se non l'hai ancora fatto iscriviti e accendi la campanellina in modo da ricevere notifiche sui prossimi video. Ti aspetto al prossimo e un grande abbraccio, a presto!